Jerry Scotti. Una terribile notizia appena arrivata in redazione lo riguarda. Di cosa si tratta? Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Fabio Fabretti, pioniere nella diffusione delle notizie, rivela che l'affermato show, Caduta Libera, condotto da Jerry Scotti, manterrà la sua posizione di rilievo su Canale 5. Il programma continua a catturare l'attenzione del pubblico, che segue ogni puntata con entusiasmo e soddisfazione. Le recenti edizioni hanno incluso il ritorno dei campioni, suscitando grande curiosità per scoprire chi si aggiudicherà il titolo di campione supremo. Quanto a Io Canto Generation, le conferme ufficiali sono ancora in sospeso. Non è chiaro se il programma si sposterà in un giorno infrasettimanale, come anticipato da TV Blog. Dopo la registrazione del primo episodio lo scorso domenica, Mediaset potrebbe decidere di seguire il piano originale o apportare modifiche in corso d'opera. L'incertezza regna su questa nuova produzione, mentre il pubblico resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla programmazione televisiva di Canale 5. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.